Una settimana di iniziative, dibattiti, seminari, visite mediche gratuite e momenti curati dall'Università dell'Insubra come quello sull'alimentazione o l'incontro dedicato alla violenza di genere. È in programma a Saronno dal 25 al 30 settembre e si tratta di un calendario prezioso per prendere confidenza con servizi e attività della Casa della Comunità di Via Fiume. Insomma un rilancio della Casa di Comunità per presentare alla popolazione dei sei comuni tutti i servizi della Casa di Comunità e permettere al centro la parola chiave di una Casa di Comunità che è la prevenzione. In programma tra l'altro omaggi e spunti per tutta la famiglia complice il sostegno del terzo settore. Avremo delle borracce che daremo in alcune iniziative soprattutto nei seminari. Abbiamo coltivato noi delle piantine di melograno nano richiamando la Casa di Comunità e anche qui su alcune iniziative andremo a distribuire questi gadget. E infine quando avremo iniziative rivolte al mondo dei bambini, quindi alle vaccinazioni al mondo mamma e bambino, anche qui doneremo questi libri donati gratuitamente da alcune associazioni del territorio. Un primo passo che risponde a chi lamentava la tardiva attivazione della Casa e spinge sul pedale del completamento. Certo c'è ancora una lunga strada da fare perché l'erogazione dei servizi non è ancora completa, gli orari in cui i servizi vengono erogati non sono ancora quelli previsti da Regione Lombardia per una Casa di Comunità di tipo hub come quella di cui parliamo, però quello di oggi è sicuramente un momento importante.